In Vicobagnara Piazza Dante nasce ZTN, zona Teatro Naviganti, uno spazio teatrale dove opera la compagnia Naviganti Inversi. Sono giovani e determinati i componenti di questa realtà partenopea che propongono una stagione ricca e articolata. Da segnalare la trovata del biglietto di ingresso a cappello. È il pubblico che decide a fine spettacolo quanto pagare l'opera vista. In la stagione trovano spazio opere dei Naviganti Inversi ma anche di compagnie esterne. Una sfida ad altri tempi che sembra convincere il pubblico. Abbiamo incontrato Maurizio Di Capuano e Gennaro Monforte in occasione della messa in scena dei racconti del baule. Ci stiamo provando, effettivamente sì, ci stiamo anche forse riuscendo a creare un'alternativa al teatro napoletano. Sicuramente non vogliamo essere i migliori, soltanto un'alternativa valida in città. Noi abbiamo istituito l'offerta a cappello che si è rivelata un'iniziativa interessante e molto apprezzata dal pubblico. Ci permette effettivamente di mettere il pubblico al centro ma anche di dare la possibilità all'artista di vedere riconosciuto il vero valore dello spettacolo proposto. Tante produzioni sono vostre, poi ospitate anche altre compagnie e quest'anno come naviganti inversi che cosa proponete? Allora quest'anno noi riproporremo, visto che non sarà così per l'anno prossimo, riproporremo spettacoli che abbiamo proposto nelle precedenti stagioni. Spettacoli che ci hanno dato anche delle belle soddisfazioni. Siamo partiti con uno spettacolo completamente inedito, in apertura, che era unico teatro, che erano dei corti teatrali. E poi siamo passati ai racconti del Baule, che è il terzo anno che va in scena questo spettacolo, con cast ovviamente diversi ma anche con registi diversi. E poi passeremo a Inshalom, uno spettacolo sulla questione palestinese, che è da ogni scena circa due anni fa. Proseguiremo poi con altri spettacoli che sono sitcom, è proprio una sitcom teatrale molto molto divertente. E volgarità gratuita a un prezzo ragionevole, che era in cartellone anche al Centro Teatro Spazio circa, mi pare, due anni fa. E finiremo poi con un delitto di letto in teatro. Uno spettacolo del sottoscritto di Francesco Saverio Esposito, che nell'edizione, mi pare, 2012 del premio Massimo Troisi, prima che poi venisse soppresso, ma poi adesso so che è ritornato, finì anche fra i finalisti. Quindi sarà un'opportunità per rimetterci in gioco anche con uno spettacolo completamente inedito. I racconti del Baule sono diretti da Gennaro Monforte. Non so se è la tua prima volta in regia per questo spettacolo. Quali sono le novità? Che tipo di spettacolo vedrà il pubblico? Ci sono anche dei riferimenti a Tarantino. Avete fatto una pubblicità su Facebook in tal senso molto divertente. Sì, I racconti del Baule nasce inizialmente come uno spettacolo diviso in corti, in scene. Erano cinque scene, anzi in realtà sei, poi una è stata eliminata. E quest'anno abbiamo deciso di fare una regia un po' particolare. Abbiamo trovato un filo conduttore che rimanda ai film, alla cinematografia di Tarantino. Quindi ci sono una serie di riferimenti proprio ai film del regista americano. E abbiamo appunto creato questa storia che quindi passa attraverso vari generi. Quindi non soltanto il genere pulp tipico di Tarantino, ma anche il genere splatter. C'è anche un corto, per così dire, genere quasi sentimentale, per così dire. Si passa attraverso vari generi. E la particolarità di questo spettacolo è proprio questa, che non ha un genere ben preciso. Benché, come hai detto anche tu, la pubblicità che abbiamo portato avanti si ispira proprio a Tarantino ad alcune scene tipiche dei film di Tarantino. E adesso sopra ci sono le tue impronte digitali. Una pistola non registrata, Leo. Ecco la mia legittima difesa. La trucco si introduce in un appartamento armato solo di una pistola scarica. Un privato cittadino spara per difendersi. Inutili e disperati tentativi di salvarlo. Distrutto dal dolore per aver stroncato una vita nel...